Buonasera e bentornati ad Abruzzo Village, a trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo, vi raccontiamo come è andata la settimana. Il geologo teramano Leo Adamoli, tra i principali studiosi dei monti di Farindola, spiega il perché il rischio valanga in quel luogo non è stato mai segnalato da alcuna carta geomorfologica. Si sarebbe trattato di una imprevedibile concentrazione di eventi negativi che ha portato al disastro. Nessuna delle carte geomorfologiche dell'Italia, redatte nel 1963 e poi quelle successive dell'Abruzzo, segnalava o segnala il rischio valanga nella zona dove invece una valanga spaventosa ha sepolto l'hotel Rigopiano. Il geologo teramano Leo Adamoli è stato tra i primi studiosi del luogo, con risultati pubblicati nella sua tesi di laurea del 1971 all'Università di Bologna sulla geologia dei monti di Farindola. Anche per lui la valanga non era ipotizzabile e inoltre il terreno sul quale è stata costruita la struttura, per quanto costituito da uno strato di detriti, era solido. Sulle carte della regione Abruzzo non viene segnalato il rischio valanga nella zona dell'albergo di Rigopiano, ma è giusto questo? Sì, è giusto perché anche io l'ho verificato in oltre mezzo secolo, che frequento quella zona, iniziare dalla tesi di laurea all'inizio degli anni 70. e lì non ho mai assistito a fenomeni valanghivi proprio in quella zona. E le carte fatte redigere dalla regione Abruzzo, per esempio la carta dell'Aquater e poi anche dal piano di assetto idrogeologico, in quella zona non vengono indicati fenomeni valanghivi, assolutamente, vengono invece indicati nelle zone limitrofe, per esempio nella zona del Gravone, si trova poco prima, lungo la strada di Rigopiano Castelli, o anche poco più a sud, ma proprio in quella zona non vengono indicati canali valanghivi o fenomeni valanghivi. Ma è vero che questo albergo è stato costruito sui detriti di una vecchia valanga? No, in quella zona c'è un piccolo conoide alluvionale, che anch'io cartografiai i tempi della tesi di laurea nel 71-72, un piccolo conoide alluvionale, una copertura detritica, come esistono ai piedi di tutte le montagne di tutto il mondo, cioè ci sono colti detritiche, conoide alluvionale o colti detritiche, eccetera, e lì la zona dell'albergo è situata proprio al confine, proprio sulla punta di questa piccola conoide detritica. Quindi secondo lei non si poteva assolutamente prevedere questa valanga? No, diciamo che questa valanga si è verificata in condizioni del tutto, come dire, imprevedibili, perché c'era stato un lungo periodo in cui praticamente il manto nevoso non c'era assolutamente. Mi dicono anzi che poco prima dell'ultima nevicata in alcuni punti affiorava il manto erboso. Secondo lei sarà ripensata la carta geomorfologica dell'Abruzzo? Ma io direi che a questo punto, siccome le condizioni atmosferiche, stiamo parlando di variazioni climatiche, noi abbiamo intanto, per quanto riguarda la piovosità, abbiamo a volte lunghi periodi di siccità e poi le cosiddette bombe d'acqua, improvvise bombe d'acqua, e stanno creando un mare di danni, fenomeni franosi dappertutto, colate detritiche, eccetera, eccetera, cose che magari in passato si verificavano molto raramente. E così anche quando riguarda le precipitazioni nevose. Quindi è chiaro che forse è opportuno individuare quelle zone dove potenzialmente si possono creare fenomeni varanghivi importanti e quindi, diciamo, tenerne maggiormente conto rispetto al passato. Quello che è successo a Rigopiano per Adamoli è il risultato della più terribile concentrazione di coincidenze negative. Un manto nevoso di 4 metri che si è depositato in poche ore sul terreno erboso e subito dopo sollecitato da un forte terremoto troppo incredibile per poterlo prevedere. Sarebbero migliaia gli animali morti a causa della fame e del gelo in provincia di Teramo per l'ondata di maltempo che ha investito l'Abruzzo. Una vera e propria emergenza sanitaria che da oggi viene affrontata e coordinata attraverso un tavolo istituzionale di tecnici che si è insediato al COC del capoluogo a Plutino. Si è appena costituito al COC di Teramo un tavolo istituzionale di coordinamento al quale siedono Prefettura, ASL e Istituto Zoprofilattico per fronteggiare l'emergenza veterinaria ed agricola. Dopo l'incredibile ondata di maltempo che ha investito l'Abruzzo e in particolare la provincia di Teramo sono migliaia gli animali che sono morti a causa della fame e del freddo dopo il crollo di tante stalle. Quelli che restano devono essere raggiunti al più presto con qualsiasi mezzo per essere sfamati. La situazione è drammatica. Serve un coordinamento forte e serio per affrontare questa grande emergenza della zootecnia, cioè agricoltura e veterinaria? L'agricoltura è il settore che sta pagando di più questa emergenza a neve, sisma e mancanza di corrente elettriche. Abbiamo costituito un tavolo di emergenza a livello regionale insieme alle ASL, insieme al Corpo Forestale dello Stato e una serie di altri portatori di interesse circa il mondo agricolo e in particolar modo il mondo zootecnico. Abbiamo costituito un punto unico di raccolta dei dati delle segnalazioni affidato all'Istituto Zooprofilattico che governerà questo processo a livello regionale e il tavolo è presieduto dal Corpo Forestale dello Stato. Si può dire quanti animali sono morti? Sicuramente migliaia, non solo in provincia di Teron ma anche a livello regionale. Ci sono centinaia di aziende che hanno difficoltà ma purtroppo hanno anche difficoltà di comunicare le loro condizioni e quindi non abbiamo ad oggi una mappatura completa dell'emergenza nella nostra regione. E poi c'è questa iniziativa adotta a una stalla? Sì, abbiamo lanciato questa iniziativa e proprio questa mattina 100 bovini della provincia dell'Aquila saranno ricoverati presso una struttura in collina sempre nella nostra regione. Adotta una stalla consentirà a tanti allevatori di fare solidarietà verso altri allevatori che hanno necessità e quindi faccio un invito, un appello ai tanti proprietari di stalle libere che possono ospitare gli allevamenti di stalle in difficoltà o corollate a seguito di questa emergenza. E intanto state raccogliendo anche i viveri per gli animali? Inoltre abbiamo attivato un punto di ammasse e di raccolta di alimenti per animali qui presso la protezione civile di Teramo affinché grazie alle granaglie, al fieno e ai tanti alimenti che tanti altri possono donare per cercare di alleviare le sofferenze degli allevatori in difficoltà. E passiamo ad altri argomenti. Nel 2016 in provincia di Teramo i reati sono generalmente diminuiti anche se il territorio soffre a causa di una criminalità di transito. Inoltre l'immigrazione aumenta del 6% e Teramo diventa la prima provincia in Abruzzo per presenza di popolazione straniera regolare praticamente triplicata. Bilancio di fine anno del prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi, sui risultati ottenuti dalla sicurezza effettuata dalle forze dell'ordine e coordinata dalla prefettura sul territorio teramano. Il primo dato riguarda i reati che nel 2016 in provincia scendono complessivamente di qualche punto in percentuale grazie al rafforzato controllo su criminalità e terrorismo. Per il prefetto Patrizzi il successo nel contrasto al crimine è dovuto alla stretta sinergia tra sindaci, polizie locali e privati. Dottoressa, il principio al quale lei si è ispirata in questo semestre è stato quello della sicurezza partecipata. La sicurezza partecipata è l'unico modo per riuscire a garantire risultati soddisfacenti per la collettività. L'attività sinergica di diversi livelli di governo a cui può contribuire anche l'attività dei privati come gli istituti di vigilanza può riuscire a garantire livelli accettabili di sicurezza alla collettività. C'è un elemento poi che caratterizza la provincia di Teramo, quello della criminalità di transito. Ci sono le bande di transito dalle regioni vicine, in particolare dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio. Ovviamente Teramo è in una situazione baricentrica, c'è un'ottima viabilità e conseguentemente soffre di questo handicap, nel senso che può avere delle ripercussioni sicuramente per quanto riguarda una criminalità che non è radicata sul territorio ma che proviene dall'esterno, fa delle battute e poi va via. Teramo ha anche un primato, il primato della popolazione straniera? Della popolazione straniera io ho parlato però di popolazione regolare, quindi non stiamo parlando dei richiedenti asilo. ho fatto la distinzione come stranieri residenti regolari, sicuramente Teramo e poi c'è Pescara, l'Aquila e Chieti in minor misura. Per quanto riguarda l'accoglienza il discorso è diverso, abbiamo 850 richiedenti asilo sul territorio provinciale divisi in 23 strutture e io ho detto alcuni di questi in ben 8 comuni stanno percorrendo un percorso di integrazione che sicuramente li aiuterà ad integrarsi meglio nel territorio. Arrestati due teramani di 35 e 36 anni, identificati come responsabili di una rapina all'ufficio postale di Campovalano di Campli, avvenuta a novembre del 2016. Uno dei rapinatori è un noto spacciatore della zona. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo e sviluppata dalla squadra mobile della Questura. Ufficio postale di Campovalano a Campli, 11 del mattino del 22 novembre scorso. Un palo fuori che controlla è un altro uomo che con il passamontagna entra e punta un coltello seghettato al collo di una dipendente che terrorizzata gli consegna tutto ciò che aveva in cassa, 300 euro. Una rapina violenta per quasi nulla, come da anni non se ne vedevano e che tanto timore aveva suscitato tra i residenti della zona. Oggi il caso è chiuso. I due responsabili teramani di 35 e 36 anni hanno confessato e sono stati arrestati. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo e sviluppata dalla squadra mobile della Questura. Abbiamo individuato i responsabili di una rapina all'ufficio postale di Campli grazie all'incomeabile opera della squadra mobile della Questura di Teramo che ha individuato i responsabili che sono stati tratti attraverso misure custodiali che sono stati eseguiti proprio oggi. La vicenda ha una notevole gravità per le modalità in cui è avvenuta la rapina. La vittima dell'ufficio postale è stata messa un coltello alla gola con la rapina e grazie all'opera della squadra mobile sono stati identificati i responsabili. E come? Attraverso il tipo di macchina utilizzata che segnava un tipo di targa particolare che ha consentito l'identificazione dei responsabili i quali poi ha collaborato con l'indagine ammettendo la vicenda e indicando anche il suo complice. Il soggetto era già un po' alle strette perché avevamo il modello della macchina il colore della macchina e anche un parziale di targa per cui una volta che è stato convocato in Questura non ha avuto grosse difficoltà a raccontarci quello che era accaduto e ad essere poi successivamente collaborativo. Avvicendamento alla poltrona di direttore sanitario all'Istituto Zooprofilattico di Teramo Nicola D'Alterio prenderà il posto di Giovanni Savini L'annuncio ufficiale è stato dato dal direttore generale Mauro Mattioli che ha anche presentato la squadra di professionisti eccellenti che rende sempre più competitivo nel mondo l'Istituto Caporale. Il Caporale, centro di eccellenza veterinaria, è chiamato sempre più spesso ad occuparsi di eventi specifici come le problematiche legate all'Ilva di Taranto, la Terra dei Fuochi, la discarica in Sicilia o l'importazione del mais contaminato dall'Ucraina. Per affrontare tutte queste delicate attività il direttore generale Mauro Mattioli schiera e presenta una squadra di professionisti eccellenti. Questa grande squadra e questo piano di organizzazione dove porterà l'Istituto Zooprofilattico di Teramo? A galloppare coi tempi, a modificare un po' il suo modo di agire, molte cose stanno cambiando, cambiano rapidamente, cambiano i problemi, certe malattie che erano determinanti nell'attività del servizio pubblico veterinario in genere non ci sono più, per fortuna sono molto ridotte, però altri magari stanno arrivando. Cambia la richiesta, prima si cercava di sapere se l'alimento era prodotto in modo igienico, oggi non solo, si vuole sapere se l'animale è stato allevato nella tutela del benessere. Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza? Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza, come ho sottolineato. E nel nuovo piano di riorganizzazione dell'IZS di Teramo è previsto il cambio di guardia alla poltrona di direttore sanitario. Al posto di Giovanni Savini, chiamato all'organizzazione del settore sanitario per il prossimo G7, arriva Nicola D'Alterio, già membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Cosa pensa di fare appena entrerà in pieno nel suo ruolo? La prima cosa che voglio fare è girare nei laboratori, nei reparti, conoscere il personale, tutto, tutto il personale, dai dirigenti che conosco bene, quelli che ha appena illustrato il direttore generale, fino ad arrivare al comparto. Teramo in effetti vanta una grande tradizione nell'ambito della medicina veterinaria, un'eccellenza già dal 1700. La storia di questa specialità medica è raccontata in un volume che è stato presentato nell'Aula Convegni dell'Ospedale Veterinario Universitario di Piano D'Arcio. Se mai a Teramo si volesse attribuire una vocazione, la si potrebbe individuare nell'eccellenza della sanità pubblica. E nella sanità pubblica spicca la medicina veterinaria, che nel Teramano vanta una tradizione invidiabile già dal 1700. La storia dello sviluppo di questa specialità medica è racchiusa in un volume curato da Ottavio Di Stanislao e Luciana D'Annunzio dell'Archivio di Stato di Teramo e che raccoglie importanti e autorevoli testimonianze. La pubblicazione, sostenuta dal vicepresidente della regione Abruzzo, Paolo Gatti, è stata presentata nell'Aula Convegni del moderno Ospedale Veterinario Universitario di Piano D'Arcio. Un omaggio alla medicina veterinaria di Teramo, che è sempre stata un'eccellenza. Diciamo che sono le nostre origini, la provincia di Teramo, l'Abruzzo, sono territori che hanno vissuto di questo, hanno vissuto di agricoltura, hanno vissuto di allevamento, di animali, veniamo tutti quanti da lì. E poi dalla veterinaria del fango e delle campagne, piano piano, nel corso dei decenni, abbiamo avuto l'istituto zoprofilattico, la facoltà di veterinaria, adesso questo ospedale veterinario è molto importante, quindi siamo un'eccellenza. L'Abruzzo è, e la provincia di Teramo, è un'eccellenza nel campo della medicina veterinaria a cui noi dobbiamo molto e sulla quale dobbiamo continuare a investire. Questa pubblicazione ha a che fare con la memoria, con il passato, con il presente, ma anche con il nostro futuro. Nel libro è raccontata l'evoluzione di una professione nata nel fango delle campagne e che oggi si studia alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Teramo, tra le più prestigiose in Italia, e che il Censis quest'anno ha posizionato tra le 13 migliori del nostro paese. Lei ha scelto di essere veterinario, è adatto alla veterinaria tutta la sua vita. Che significa essere veterinario? Allora, come giustamente ha detto lei, prima di essere preside, prima di essere un docente di clinica ostetrica, sono un medico veterinario. A me la professione ha dato tanto, perché vengo dalla libera professione nella zona dell'Emilia Romagna. E cosa significa essere veterinario? Significa non solo curare gli animali, perché quello è il settore clinico, ma significa anche pensare alla salute dell'uomo. Pensate che tutto quello che arriva sulle nostre tavole è controllato dai nostri servizi veterinari, che sono servizi di eccellenza in ambito nazionale e non. Voi avete questo ospedale per gli animali bellissimo. Cosa si fa qui? C'è un gruppo che si occupa di piccoli animali, cani e gatti, e facciamo dalla visita fino a interventi di chirurgia importante. Un'eccellenza in Italia? Beh, presuntuosamente direi proprio di sì. Presentata a Teramo la campagna di sensibilizzazione contro l'evasione tariffaria sugli autobus di linea urbana. La Dittabal Tour, concessionaria del servizio di trasporto per il capoluogo, ha stimato che il 5% degli utenti non paga il biglietto. Il 5% di cittadini terramani che utilizza i trasporti pubblici non compra il biglietto. Un'evasione annuale che pesa sui bilanci della Dittabal Tour, concessionaria del servizio per il comune di Teramo, che corre ai ripari attraverso una campagna di sensibilizzazione sulle buone ed oneste maniere. Come pensate di abbattere questa evasione del 5%? Innanzitutto, sull'autobus si può accedere solamente dalle porte anteriori e quindi alla fermata, appunto, solamente dalla prima porta si entrerà. I nostri autisti ci aiuteranno a fare un controllo proprio visivo sui ticket di viaggio. Quindi, se c'è qualcuno che, ad esempio, non è munito di biglietto, potrà acquistarlo sull'autobus, come detto, con una piccola maggiorazione di 30 centesimi e quindi a bordo costerà 1,50. Oltre a questo, chiaramente, andranno anche a controllare gli abbonamenti e quindi diciamo che c'è proprio un controllo a bordo vero e proprio e questo dovrebbe in qualche modo scoraggiare quei pochi, ma purtroppo ancora presenti, portoghesi. Ecco, chi sono i portoghesi? Persone, forse non proprio cittadine del Teramano in particolar modo, ovviamente qualche cittadino teromano anche, però, ecco, una casistica piuttosto varia, però, insomma, persone magari non italiane anche, soprattutto. E intanto, partendo dal trasporto urbano, l'amministrazione comunale di Teramo ripensa il decoro della città attraverso nuove pensiline e una sofisticata autostazione a piazzare San Francesco con barriere di ingresso e videosorveglianza. Stamattina c'è stato un incontro con i tecnici della TUA che ci hanno portato un po' quello che sono i vari step per arrivare ad avere un'autostazione, quindi una struttura nuova con un bar, con una biglietteria, con una sala d'attesa, con dei bagni. Nuovi sistemi di pensiline per gli autobus, un sistema videosorvegliato e quindi, diciamo, i tempi sono che entro dicembre ci sarà la ditta che puoi eseguire i lavori. Grazie di averci seguito, vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consorfon. Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali nel diventare grafico, computerizzato, specializzato in disegno tecnico e tridimensionale. Grazie ancora, buonasera da tutti. Grazie a tutti.